Musica Slitta settembre la prima dose di vaccino per chi si sta prenotando in questi giorni Agende piene, al Palataros al momento è possibile ricevere solo il richiamo Ancora maltempo e allerta arancione, resta chiuso al traffico un tratto di provinciale l'Ariana Il comune di Mandello interverrà nei prossimi giorni per mettere il versante in sicurezza Torna per il quarto anno il festival con la testa all'insù che quest'estate oltre a Piazza Garibaldi Animerà lo spazio dell'ex piccola velocità dal 10 luglio e le evoluzioni di acrobati internazionali Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale In apertura parliamo della campagna vicinale perché Slitta settembre è la prima dose di vaccino per chi si sta prenotando in questi giorni Agende piene, al Palataros dove si continua a lavorare a pieno ritmo Al momento è possibile ricevere solo il richiamo Da lunedì l'app di Lecco dovrà inoltre farsi carico delle seconde dosi di chi si era vaccinato in precedenza a Barzio Da lunedì infatti il polo valsassinese sarà chiuso Vediamo Chi non l'ha fatto fino ad ora dovrà aspettare almeno fino a settembre per ricevere la prima dose di vaccino contro il Covid Nessuna conferma ufficiale sul blocco delle agende per le prenotazioni Ma basta entrare nel sito della regione e inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria per averne la certezza Prima data utile per sottoporsi alla profilassia al Palataurus 7 settembre, orario tra le 14 e le 15 E non basta nemmeno provare a cambiare centro vaccinale Se fino a pochi giorni fa risultava la disponibilità nel milanese e per la precisione al lab di Vimodrone Ora anche questa possibilità è sfumata Di lieve rallentamento della campagna aveva parlato proprio a Lecco lunedì scorso il vicepresidente Lombardo Letizia Moratti Recupereremo ad agosto la rassicurazione Ma intanto le prime dosi, soprattutto per i giovani, slittano pericolosamente a ridosso dalla riapertura delle scuole I motivi? Da una parte scarseggiano i vaccini a causa anche della riduzione dell'uso di AstraZeneca Con conseguente ricorso a Pfizer e Moderna Dall'altra resta lo zoccolo duro, soprattutto over 60, di chi ha deciso di non aderire alla campagna Intanto però è giusto sottolineare come al Palataurus si continui comunque a lavorare a pieno ritmo Con l'organizzazione e la puntualità che si è già avuto modo di riscontrare Dalle 1400 alle 1600 iniezioni al giorno, ma sono solo seconde dosi Da lunedì inoltre l'Hub del Bione dovrà farsi carico anche dei richiami di chi si era vaccinato a Barzio Poiché il centro valsassinese sarà operativo fino a domenica 11 luglio E poi chiuderà i battenti per lasciare spazio all'allestimento della Sagra delle Sagre Hanno incrociato le braccia per due ore alla fine di ogni turno i lavoratori della PFA di Corte Nova Per la giornata di oggi, infatti i sindacati dei metalmeccanici FIOM, CGL e FIMCIS L'hanno proclamato uno sciopero dopo il grave infortunio che ha coinvolto un lavoratore 23enne Travolto da profili metallici durante la movimentazione di un bancale Come rappresentanti sindacali ormai da mesi stiamo sollecitando l'azienda sul tema della salute e sicurezza Scrivono FIM e FIOM, riuscendo a strappare un incontro ufficiale solo per la giornata di domani Restalta l'attenzione per il maltempo Anche nelle prossime ore è confermata l'allerta arancione sul territorio della provincia di Lecco Ancora chiuso al traffico un tratto di provincia dell'Ariana Il comune di Mandello interverrà nei prossimi giorni per mettere il versante in sicurezza Ci risiamo da un anno questa parte Ogni volta che nelle chiese scatta l'alerta maltempo Un tratto della provinciale 583 L'Ariana Compresa nel territorio comunale di Mandello Deve essere chiuso al traffico La scelta è determinata dalla presenza in zona Moregallo Di materiale roccioso portato da un fiume su un terreno privato Al di sopra della strada stessa Materiale che in caso di forti acquazioni potrebbe smottare A seguito dell'ultimo allarme diramato nelle scorse ore Come già avvenuto in altre occasioni La provincia ha quindi disposto la chiusura al traffico del tratto interessato della strada Un problema per i residenti di Oliveto Lario e di Bellagio Che sono costretti a un giro dell'oca per tornare a casa da Lecco Ci spiace che la situazione si crei da un anno a questa parte Dichiera il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli Ma come noto il problema verte sulla responsabilità di messa in sicurezza di un'area Con la rimozione del materiale che all'interno della stessa In caso di forti temporali potrebbe riversarsi sulla strada provinciale In questo incastro di soggetti Prosegue Fasoli Il comune di Mandello è stato identificato come il responsabile Della sua messa in sicurezza Non crediamo però tocchi a noi Stante la situazione Considerati numerosi problemi e difficoltà Il comune ha deciso comunque di procedere con l'intervento Ci prenderemo l'onere giuridico e economico di responsabilità Prosegue Fasoli Per intervenire su un'area privata e mettere in sicurezza un tratto di strada Che non è di nostra proprietà Provvederemo nei prossimi giorni a rimuovere il materiale che rischia di cascare Con l'obiettivo unico di garantire il passaggio alla cittadinanza Nella speranza che poi nessuno abbia nulla da eccepire Stava sfrecciando lungo la superstrada 36 a bordo di un'auto rubata a Saronno Gli agenti della volante lo hanno intercettato e fermato all'altezza dello svincolo di Molteno Di fronte ai poliziotti e all'evidenza dei fatti Ed esistito nei guai un 26enne marocchino irregolare con precedenti specifici Una volta identificato è stato espulso dal territorio nazionale Il veicolo è stato restituito in buone condizioni al proprietario Per abbattere la crisi e superare le difficoltà della pandemia L'unica ricetta vincente è puntare sulla formazione Apileco Sondrio ha fornito alle aziende associate centinaia di corsi Per restare al passo con i tempi Vediamo Le sfide si vincono con la formazione Nel 2020 Apileco Sondrio ha promosso 380 corsi di formazione per 412 aziende Contribuendo a implementare le conoscenze di oltre 3200 lavoratori Dal 2004 ad oggi abbiamo fornito quasi oltre 6 milioni di euro di formazione E nell'ultimo triennio siamo arrivati a quasi 2 milioni e mezzo Per un totale di più di 10 mila dipendenti Quindi devo dire che assolutamente tutto questo è da leggersi come la capacità di una territoriale Come quella di Apileco Sondrio di assistere i propri iscritti e fare impresa Abbiamo una catena di trasmissione molto corta tra il direttivo Quindi gli imprenditori associati e la struttura I desiderata delle aziende viaggiano tramite gli imprenditori e il direttivo Direttamente alla struttura che è organizzata per rispondere sulle esigenze specifiche delle aziende Sia in termini prospettici ma anche in termini organizzativi Da qui il risultato di un crescente successo dei nostri corsi tramite le associate e non Io voglio sottolineare il fatto che la formazione continua è fondamentale Per la qualità delle risorse umane e quindi per la qualità della produzione Penso che se si continua su questa strada Viene naturale chiedersi perché non inserire anche la formazione continua Per quelle persone che il lavoro non ce l'hanno più E parlo di politiche attive del lavoro Ed è più semplice a questo punto pensare a un percorso di reinserimento delle persone All'interno del ciclo produttivo Dal 10 luglio tutti con lo sguardo verso l'alto Per ammirare le spettacolari evoluzioni di acrobati internazionali Torna per il quarto anno il festival con la testa all'insù Che quest'estate oltre a Piazza Garibaldi Animerà lo spazio dell'ex Piccola Velocità Volgere lo sguardo verso l'alto per ammirare le spettacolari evoluzioni di acrobati internazionali Ma anche metaforicamente per sollevare la mente dai problemi quotidiani Sabato 10 luglio torna per il quarto anno a Lecco Il festival con la testa all'insù Rassegna organizzata dal comune di Lecco Con spettacoli circensi e artisti di strada Quest'anno non soltanto in centro città Quest'anno il festival internazionale con la testa all'insù Verrà ospitato anche alla piccola Con un'anteprima sabato 10 luglio Con lo spettacolo acrobatico dei Sonics Come in una capriola del circo in cui si riparte Anche la piccola vuole fare la sua capriola e ripartire Sapendo ospitare eventi dedicati alle famiglie Dedicati a tutti quelli che hanno ancora la capacità di stupirsi come bambini L'idea è anche quella che ognuno da casa si porti La propria postazione diciamo Ciascuno potrà portare una coperta, una stoia, un telo Tutte le famiglie, tutti gli amici e compagnie che vorranno venire a vedere lo spettacolo Potranno farlo sedendosi liberamente nell'area di sicurezza E alzare la testa verso l'alto per godersi lo spettacolo Abbiamo individuato 5 proposte a nostro perere ben amalgamate L'apertura anzi l'anteprima del festival avrà sabato prossimo con i Sonics Con una autogru con un braccio di oltre 30 metri Questi acrobati raccontano una storia fatta soprattutto di emozioni e di poesia Ad altezze incredibili Poi in agosto 4 apportamenti imperdibili I Black Blues Brothers, un gruppo di acrobati africani che ha entusiasmato il mondo La storia di un gruppo di persone alla stazione In attesa di un treno o forse l'hanno appena perso Lo scopriremo insieme il 18 agosto Torniamo poi alla piccola il 19 agosto con uno spettacolo di acrobati cubani Ispirato alle opere di Gabriel Garcia Marquez Amor, giocoleria, acrobazia, equilibrismo, contosionismo Torniamo a concludere in Piazza Garibaldi con due proposte spassose Un artista argentino, il nino delle trete Poliedrico e giocoliere, clown e trasformista E degli illusionisti comici Il lucchettino che sono reddici da una torna di tre anni con Arturo Brachetti E sono stati definiti gli staglio olio italiani Bentornati dunque Grazie mille, vi aspettiamo numerosi Da oggi chi vuole visitare Malgrate può affidarsi a una cartina digitale Che indica meraviglie artistiche, paesaggistiche e religiose L'iniziativa è stata realizzata da alcuni giovani volontari Insieme all'Azione Cattolica nell'ambito del progetto Living Land Le meraviglie di Malgrate a portata di un click Grazie a un progetto promosso dall'amministrazione comunale In collaborazione con Living Land e Azione Cattolica Quanti visitano il comune e le porte di Lecco Hanno d'ora in poi un'opportunità in più per trovare e scoprire le attrattive più importanti del paese È un progetto che è partito appunto quest'anno per il primo anno Lo svilupperemo anche nei prossimi anni Su questi tre filo sostanzialmente Le strade della fede, del turismo e dell'ambiente Quindi riscopriamo il paese di Malgrate Per gli abitanti ma anche per chi viene per una passeggiata domenicale O anche per il turista, lo mettiamo in questa nuova modalità Sicuramente molto comoda e semplice da usare Perché si userà poi il QR code per scoprire Malgrate Questo progetto, ideato con le competenze nostre di volontari Ha ingaggiato però degli educatori innanzitutto E poi dei ragazzi per permettere loro di acquisire competenze Che poi si possono spendere loro stessi nel mondo del lavoro Living Land è stato, come dire, il partner che ha ingaggiato Ho fatto il bando, i colloqui con i ragazzi Che sono stati appunto ingaggiati Ho partecipato a questo progetto E insieme alle mie compagne abbiamo realizzato una mappa di Malgrate Con dei punti di interesse che possano essere appunto interessanti Sia per i cittadini sia per i turisti Quindi facendo anche una ricerca storica, artistica Dei luoghi più interessanti di Malgrate Per una visita a Lampo sicuramente il Lungolago Dove ci sono moltissimi edifici belli e interessanti In particolare il Palazzo Agudio Consonni Ed è tutto per questa sera Seguiteci anche sui social, su Facebook, su Twitter, su Youtube, su Instagram E sul nostro sito www.teleunica.com Grazie per essere stati con noi Vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti